Raga questi sono due miei amici youtuber e oggi li stream sniperemo facendoli impazzire completamente Quindi raga allora come sempre vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, iscrivervi al canale, lasciare un commento E se volete supportare tutto il team best trovate il mio link qui in descrizione per lo shop con abilitato già un codice sconto E quindi se acquistate mi raccomando taggateci tutti su Instagram Ora direi di iniziare subito con il video Devo capire dove si lancia Contins Il problema è che ci saranno anche i suoi iscritti che vorranno andarlo palesemente a stream snipereare Perché per forza lui si sta lanciando non so dove Non ha neanche pingato raga lui si è lanciato così perché boh Mi butto a caso non lo so Mi butto a caso Vado a buttare mi prendo un bel po' di armi e poi lo vado a pusciare Che fa questo? No raga se mi ammazza è Ok madonna E soprattutto non voglio essere stream sniperato perché Che mister mi snipera verrà bannato per sempre da Fortnite Io ve lo dico eh ve lo dico vi ho avvertito Siamo amici però se Qualcuno mi viene il mister snipera gli tolgo l'amicizia E va a finire molto male Vabbè Porco 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 Io adesso questo Io dovrei bannarlo questo qua Hanno ammazzato Contins No Prima prova già fallita Ok raga allora avviate la seconda partita Adesso proviamo a stream sniperarlo Speriamo che non lo ammazzino prima perché se no Non lo voglio di stare qua tre giorni perché ci sono gli altri che lo stream sniperano Devo riuscirci devo farlo smattare raga Dato che lo str***** ha messo la sua immagine grossa così Quindi io non vedo dove va Io vado in un punto a caso e vado a ricerrete che mi sembra buono così almeno non mi spammano Niente speriamo che lui atterri vicino Ok raga io sono qua Oh buona sta cacca Buono il cecchino Potrebbe essere Uafontifatue No raga non ci credo Raga ricerrete Che stai a dire No raga non ci credo Raga non ci credo Non ci credo Ho beccato il posto esatto Oh che cazzo era lo mi ha sparato Chi mi ha sparato Ragazzi mi è arrivata una cecchinata Mi è arrivata una cecchinata Non so Non so da dove Raga lo sto smirando completamente Ok raga l'ho fatto 110 Porca muzzolina Ma chi cazzo era quello laggiù regà C'è uno che mi sta uccidendo laggiù Porca di quella trota Adesso raga lo pusho Orco Orco Che cazzo era sono ste cose L'ho eliminato qui c'è quattro Pezzo di Guardalo guardalo No 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 Pici di me Pici Perché stream mi sono liberate così Perché stream vi divertite Ti diverti tu a fare queste stronzate No dimmi se ti diverti Perché io non mi sto divertendo Io sto qua da un'ora in live Perché sto cercando di fare un server privato Tranquillo per tutti Arrivi tu E mi sfracassi C'è C'è quelle cose là che stanno sotto Capito Non so bene come le chiami tu Raga Raga guarda Ai pc Che palle Io ti banno Io ti banno No Mi sta Mi sta ballando regà Mi sta ballando Mi sta ballando seriamente Segnala giocatore ragazzi Io non sto sentendo Ma vedo di che fa No no Mi sta segnalando Mi sta segnalando Che pezzo di merda Non mi interessa Non mi interessa BG Te lo sei meritato Io ti segnalo Tu sei una persona orribile Sei una persona orribile Raga La mia missione è compiuta Adesso quittiamo Lui riavvia E io lo stream snipero ancora Lo faccio arrabbiare ancora di più Fin quando proprio Non sfolla Adesso proviamo E andiamo in un posto lontano Fra c'è via Dai Via Tra qualche secondo ragazzi Vi metterò lo schermo Così vedete dove sono andato Tanto non mi dovete stream sniperare Questo assolutamente no Io vedo Poi dalla mappa Che sta andando Esattamente in questa zona qua E per quello che ho scelto Crocevia Perché non so se sta andando A fonti A crocevia O a riccio Io ho preso quella in mezzo Così male che vada Comunque sono più vicino A tutte e due Oh raga sento passi No raga sento passi Non ho armi Oh porca di quella Orca di quella puzzolina Porca di Ragazzi questo qua Lo piccono No raga conti Devo scappare Non ho un pompa Ragazzi non ho un pompa Dove cazzo era andato Scappato Dove sta Ragazzi si è teletrasportato Questo qua Non sto scherzando Porca puzzolina Vieni qua fratello Vieni qua fratello Codo 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 Non riesco Dov'è che sta No 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 non è possibile Ragazzi sto sfollando Non è possibile Sempre picci Sempre picci Che fa Morca di quella tro No raga non so neanche io come ho fatto uccidere Lo ve lo giuro è proprio scarso È una pippa Contins ragazzi Cioè io sono scarso Ma lui è proprio una pippa Ok raga allora È in live lollo Adesso andremo a stream sniperarlo Perché dobbiamo farlo smattare anche lui raga Cioè dobbiamo farlo smattare anche lui Allora come potrete vedere lui è in live Sto guardando che sta atterrando esattamente A Rich in rete Quindi perfetto Dobbiamo trollarlo un po' Quindi dobbiamo infastidirlo Diciamo che dobbiamo nasconderci Spararli Fargli un po' di danno Così lui smatta un po' Allora lui c'ha una skin galaxy Sì tipo Terriamo qua Ci prendiamo le belle armettine C'è una cassa Dammi un pompa bello Va bene anche un piccolo pompa No No Niente pompa ragazzi Andiamo a killare adesso gli stream sniper È arrivato il momento direi Vediamo un po' dove sono Ok qui ce n'è uno Lo danneggio Orcocan mi sparano già No è lui È lui raga no 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 Dov'è? È sul tetto Balla se stai guardando la live Non ci credo Non ci voglio credere Raga Dai raga è uno stream diver Che palle Devo scappare Adesso è l'ora di pusharlo Però raga non ho un pompa Ce l'ho messo davvero davvero male Raga L'ho messo davvero davvero male Dai un pompa Dai Devo scappare Devo scappare Devo scappare Raga non ci voglio credere Mi nascondo dietro all'albero Sta scappando Sta scappando Dove sta? Vado via Io ragazzi lo banno questa fine partita Ve lo dico lo banno Ah è qua È qua in questa casetta raga Adesso Adesso lo faccio un po' smattare Dov'è? Sì vabbè Guarda che mi Che sa già dove sono È inutile che scappo Perché lui sa dove sono Proviamo a fightarlo Sì vabbè dai Va bene va bene Mi sta già sciogliendo Ok Uoh Mi sta mirando troppo Mi sta mirando troppo Devo Devo shottarlo raga Vuoi di dare un medikit? Che fa? Ma ha lanciato un medikit raga Ma che Sbom Sbada bang Sbom Non riesco a beccarlo neanche una volta Sono troppo forte Sono il re Sono il re di questo gioco ragazzi Non ho neanche un pompa Ragazzi sono scarso Sono Oh no ho finito i materiali Ho finito i materiali Ho finito i materiali No sono incastrato No raga sono scarsi No no raga sono scarsissimo Ha finito i maz Raga ha finito i maz Abbiamo finito i maz tutti e due Comunque Se posso essere onesto Questo è uno degli sniper Più scarsi Che io abbia mai incontrato In tutta la mia carriera Ah 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 No 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 non lo voglio confermare Non ho materiali bro Bro risparmiami Adesso lo piccono raga Adesso lo piccono Non ho materiali raga Ho paura di questa situazione Dov'è? Ah 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 Ho una tattica Ho una strategia Quella di far esplodere quel coso Esplodi Lo devo piccolare raga No ho fatto scoppiardato No L'ho ucciso Sì No mi ha ucciso Dai Ma era una tattica perfetta Pici Pici è l'infame di Pici Non ci credo Non ci credo Aspetta devo ballare Devo ballare Devo far incazzare Sì vabbè Balla pure il grid Mi balla Mi balla pure il grid Il testa di cazzo Dopo che mi ghilla Mi streamdiver Io lo caccio dal team raga Lo caccio dal team Chiamo Best E io dico Pronto Best Pici fuori Per favore Ok raga allora Spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre Vi ricordo di lasciare Un bel pollice Nessù Scherzo al canale Lasciate un commento Mi raccomando Andate a vedere Anche gli altri video Perché sono molto divertenti E se volete supportare Il team Best Trovate in descrizione Il mio link Per lo shop dei Best Appunto che è già attivato Un codice sconto Per tutti i vostri acquisti Quindi raga Se acquistate qualcosa Mi raccomando Taggateci su Instagram E quindi niente Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella raga